Aria di crisi nella giunta a Biondi e il rimpasto che era necessario dopo l'elezione di alcuni rappresentanti in Consiglio regionale si preannuncia ancora più largo. Dopo la rottura con Annalisa Di Stefano in quota Forza Italia, il sindaco Pierluigi Biondi ha deciso di ritirare le deleghe anche a Sabrina Di Cosimo, assessore alla cultura e al turismo. Con il vice sindaco Guido Liris e l'assessore Emanuele Imprudente ormai in Consiglio regionale e anche Luigi D'Eramo potrebbe decidere di dedicarsi soltanto all'attività parlamentare a Roma, la partita per fare la nuova giunta si allarga. Oggi la nuova rottura. Il provvedimento, scrive Biondi in un comunicato, è scaturito all'esito di ripetuti comportamenti non consoni al ruolo rivestito da un rappresentante dell'organo esecutivo di un capoluogo di regione, culminati negli atteggiamenti fuori luogo tenuti in occasione di una riunione aperta alle istituzioni culturali, ha spiegato Biondi. Le deleghe saranno eventualmente riassegnate in occasione della necessaria verifica di giunta, seguita alle elezioni regionali, che hanno comunque premiato il buon governo cittadino. Ritengo che la coalizione debba acquisire ancora maggiore consapevolezza del compito assegnato dai cittadini, in virtù del quale è richiesto uno standard politico, amministrativo e personale, sobrio e di qualità.